Riflettori puntati sull'Alzheimer nel mese di settembre, dedicato proprio al morbo che si manifesta con problemi di memoria e non solo. L'Associazione Familiare di Alzheimer di Caltanissette organizza una giornata dedicata alla prevenzione sabato 24 settembre 2022. Dopo la partecipazione ai convegni svoltisi durante la settimana tra CEF Passi Ospedale e Santeria, l'Associazione si rivolge direttamente alla cittadinanza con la possibilità di effettuare dei test e parlare dunque di diagnosi precoce. È importantissimo fare prevenzione, soprattutto cercare di avere degli stili di vita corretti, dall'alimentazione al movimento e anche a quelle che sono poi le stimolazioni a livello cognitivo. Tenere sempre la mente attiva è un modo anche per mantenersi più giovani ed avere uno stile di vita migliore. La giornata di sabato è un invito che facciamo a tutta la cittadinanza ovviamente, una giornata di diagnosi precoce. Avremo a disposizione due psicologi, uno la mattina dalle 9 fino alle 12.30 e un'altra il dottore Salvatore Torregrossa la mattina, la dottoressa Alessandra Messana, il pomeriggio dalle 16.30 fino alle 19.00. Diagnosi precoce dove in pratica questi psicologi faranno dei test a chi si vorrà sottoporre ovviamente al test e poi nel caso in cui ci fossero dei problemi o comunque delle situazioni che devono essere attenzionate ovviamente verranno rimandati ad esami diagnostici più approfonditi. Questi test verranno fatti presso i locali della Proloco di Caltanissetta e in Corso Umberto, sono quelli vicino al comune. L'associazione d'anni opera sul territorio stando accanto alle famiglie. Noi come associazione abbiamo sempre fatto sensibilizzazione e informazione, abbiamo sempre cercato di dare un supporto, un primo supporto alle famiglie soprattutto a livello informativo perché logicamente chi si trova davanti a una malattia, una patologia che include non solo l'Alzheimer ma anche diverse forme di demenza, la famiglia si trova ovviamente spiazzata e noi cerchiamo di indirizzarli verso quelli che sono i servizi del territorio che abbiamo qui a Caltanissetta. Qui infatti abbiamo un centro di urno ASP che è pubblico e che accoglie i pazienti nella prima fase della malattia.